Quest'anno la nostra associazione si è focalizzata sull'organizzazione di attività laboratoriali inclusive che vedessero la partecipazione a fianco dei nostri figli con autismo anche dei loro varietà neurotimici. Spesso il modello fornito da coetanei è più efficace per trasferire un apprendimento ai nostri ragazzi. I mediatori artistici hanno questa straordinaria caratteristica di favorire la comunicazione e consolidarsi di relazioni significative. L'unica cosa che possiamo dire è ringraziare i bambini che ci hanno insegnato tanto.